Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Armando Incarnato ha fatto un ritorno sorprendente nell'arena mediatica con un'intervista critica nei confronti dei protagonisti di Uomini e Donne, programma nel quale ha fatto parte per anni come volto televisivo del Trono Over 30. Dopo la sua uscita dallo show, Incarnato ha scelto di rompere il silenzio sui social, lanciando un duro attacco contro i successori, accusandoli di aver trasformato il programma in un ufficio di collocamento. Ha sottolineato il rispetto dovuto a Maria De Filippi e alla produzione del programma, evidenziando la mancanza di rispetto da parte dei nuovi protagonisti. In particolare, ha preso di mira gli uomini di 40 anni che partecipano al Trono Over, definendoli nulla facenti e criticando il loro desiderio di visibilità e fortuna. Incarnato ha concluso il suo intervento offrendo sarcasticamente un lavoro di giardinaggio ai volti over, sottolineando l'assurdità della situazione. La sua critica ha diviso il web, con alcuni internauti che lo hanno sostenuto e altri che hanno respinto le sue accuse. Resta da vedere se ci sarà un futuro ritorno di Armando Incarnato a uomini e donne.